Sono già a quota 100.000 le adesioni per la rottamazione delle cartelle. La media nei primi due mesi è stata quindi di 2.500 domande al giorno. La cosiddetta definizione agevolata, oltre a rendere più semplice la vita dei cittadini, è anche un'importante voce del bilancio dello Stato, visto che dovrebbe far incassare al Governo circa 4 miliardi di euro in due anni. Introdotta con il decreto fiscale collegato alla manovra, la rottamazione è partita due mesi fa, ma ad inizio dicembre sono state introdotte diverse novità, a partire dalla possibilità di sanare con lo sconto anche i debiti con il fisco relativi all'anno appena concluso, il 2016. Secondo i dati forniti da Equitalia, poco più della metà dei contribuenti si sono presentati direttamente allo sportello per avanzare la loro domanda, mentre il resto ha preferito usare Internet. Chi aderisce alla definizione agevolata deve pagare l'importo residuo del debito senza sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Entro il 28 febbraio 2017 Equitalia dovrà inviare ai contribuenti una comunicazione su eventuali cartelle non ancora notificate. Il tempo per aderire alla definizione agevolata scade il 31 marzo. Entro il 31 maggio, poi, Equitalia dovrà inviare un'informativa ai contribuenti che hanno aderito, in cui sarà indicata la somma dovuta, insieme ai relativi bollettini, con le date di scadenza dei pagamenti. Per chi sceglie una sola rata, la scadenza è fissata a luglio 2017. Chi preferisce pagare in più rate potrà chiederne fino a un massimo di 5. In questo caso, la scadenza dell'ultima rata è fissata a settembre del 2018. In questo caso, la scadenza dell'ultima rata è fissata a settembre del 2018.